Ben ritrovati per la nostra rubrica del venerdì. Oggi parliamo di un nuovo personaggio, quindi in questa serie dedicata ai personaggi della storia della cultura ebraica, siamo partiti con il D-Book e con il Golem, personaggi di fantasia, della grande letteratura, della mitologia ebraica di tutti i tempi in realtà, siamo arrivati con il D-Book fino ai primi decenni del 1900 e quindi il D-Book passa metaforicamente il testimone a un personaggio invece che è una persona, una persona realmente vissuta che ci accompagnerà verso la fine di questa appunto serie di quattro personaggi perché gli ultimi due personaggi che tratteremo saranno due persone reali, quella di oggi una donna, la prossima un uomo che non vi svelo adesso, che però entrambi strizzano decisamente l'occhio alla fantasia e all'immaginario, quindi sono persone reali ma che hanno molto a che fare con il fantasioso, con il mondo immaginato. Il personaggio di oggi è una donna, una delle mie donne preferite di tutti i tempi, si chiama Else Laskerschuller, è nata nel 1869 a Elbelford in Renania, una regione della Germania sud-occidentale, vicino al fiume Wuppertal e anche la città in cui è nata Pina Bausch, quindi ci sono queste due grandi donne rivoluzionari, innovatrici, Pina Bausch per la danza contemporanea e Else per la scrittura, per la poesia ma per la scrittura in generale, che sono accomunate da questo luogo, questo fiume, che è un fiume femminile come tutti i fiumi in tedesco, appunto, la Wuppert. La Wuppert è anche il titolo di uno dei drammi di Else Laskerschuller, che oltre ad averci lasciato poesie, ha scritto anche tre, se non di più, ma diciamo tre riconosciuti drammi, quindi testi teatrali, di Wuppert appunto, dedicato proprio a questo suo fiume materno, quasi una divinità dei fiumi molto germanica. L'ultima sua opera, Ich und Ich, che gioca su un'assonanza, un gioco di parole tra io e te, ich und dich, o io e io, ich und ich. Quindi a seconda di dove si piazza quella di di questa frase può essere letto nei due modi, io e te, o io e io, ed è il suo ultimo dramma, composto nel 1945, pubblicato subito prima della sua morte, in cui immagina un inferno dal quale Mephistofile e gli altri diavoli fuggono all'arrivo dei nazisti appena morti, perché nemmeno Satana in persona, per così dire, può sopportare la compresenza dei peggiori mostri del nazismo. Quindi lasciano l'inferno, che non è più un luogo abitabile nemmeno per dei diavoli. Quindi con questo ultimo dramma infero, Else conclude la sua carriera di scrittrice, la sua vita terrestre e ci lascia, morendo il 22 di gennaio del 1945, all'ospedale Hadassah del Haratzofim, del Monte degli Esploratori, il Monte Scopus a Gerusalemme, per inciso lo stesso in cui sono nata io nel 1983, quindi quasi 40 anni più tardi, e mi piace immaginare che le nostre anime in questi letti di ospedale si tocchino fra morte e nascita. Else appunto nasce in Germania il 11 febbraio del 1869, nasce, muore a Gerusalemme il 22 gennaio del 1945, così vi ho dato le date dentro alle quali vive. È uno dei personaggi più interessanti di tutta la storia letteraria e artistica del Novecento, prima di tutto perché è un artista multiforme, appunto scrive drammi, poesie, diari, lettere che sono difficilmente classificabili in un genere letterario. Uno dei suoi libri più interessanti pubblicati in Italia da Giuntina si chiama La Terra degli Ebrei, un libro scritto alla fine degli anni Trenta, che è una sorta di diario del suo primo viaggio in Palestina, nella Palestina del mandato britannico, appunto nella seconda metà degli anni Trenta, in cui lei compie finalmente uno dei suoi tre viaggi, l'ultimo del 39 sarà il definitivo, appunto risiederà poi a Gerusalemme fino al 1945, l'anno della morte, e in questo appunto diario autobiografia letteraria La Terra degli Ebrei Giuntini racconta il suo approccio con una terra, la terra promessa, che per tutta l'infanzia, l'adolescenza, l'età della prima giovinezza aveva immaginato, sognato, creduto di conoscere, quando poi ci arriva realmente, non voglio dire la delusione, ma sicuramente la differenza tra un mondo immaginato e un mondo vissuto e esplorato realmente è sempre molto grande. Facciamo un passo indietro per raccontare la nascita di Else, appunto in questa terra di Germania, una Germania operosa, molto dedita al lavoro, piena di industrie. Il racconto che Else dà di se stessa è molto diverso, scriverà nel 1919 a Kurt Pintus, il curatore di Menschheit Demmerung, cioè Crepuscolo dell'umanità, una storica antologia lirica dell'espressionismo che appunto sta raccogliendo le vite dei suoi più importanti rappresentanti, esponenti, quindi gli artisti, i poeti dell'espressionismo di quegli anni, Else, chiamata a raccontare di sé, scrive «Io sono nata a Tebe, in Egitto, anche se venni al mondo a Delberfeld, in Renania. Fino agli undici anni andai a scuola, diventai Robinson, vissi cinque anni in terra d'Oriente e da allora vado vegetando». Allora già in queste primissime poche righe che abbiamo di Else è raccolto moltissimo perché vediamo come appunto sostituisce la nascita reale in una regione concreta della Germania con una nascita in un oriente immaginario, un oriente che poi l'Egitto, quindi si fa per dire oriente, in una città che è Tebe e questo ci riconduce a un personaggio che sarà uno dei suoi principali personaggi letterari e artistici, Yusuf, principe di Tebe. Giuseppe, il Yusuf della Bibbia e del Libro della Genesi, uno dei figli favorito, uno dei figli di Giacobbe, che poi viene gettato in un pozzo, in una cisterna dai fratelli gelosi, invidiosi appunto del fatto che Giacobbe lo prediliga tanto, diventerà prima uno schiavo, poi addirittura un carcerato per poi emergere dalla prigione come vicere d'Egitto, grazie al fatto che riesce a interpretare i sogni del faraone salvando così l'Egitto dalla carestia e quindi appunto questo Giuseppe diventa Yusuf, perché nell'immaginazione di Else assume un nome arabo, principe di Tebe, che sarà per molti anni l'alter ego d'elezione di Else, il suo personaggio letterario. Vediamo delle fotografie di lei, anche dei disegni, in cui si aggira per i caffè, per le strade della Berlino degli anni 10, 20, del Novecento, proprio abbigliata come questo personaggio dell'hai inventato. Spesso si trucca, si disegna una stella sulla guancia, una luna, si mette delle fasce, dei turbanti appunto che possono sembrare egiziani oppure orientali, ha una sorta di flauto di pan che suona e sembra sempre un fanciullo, ha qualcosa del fanciullo magico che non è necessariamente né uomo né donna. Quindi in tempi appunto molto diversi da questo nostro di oggi, Else mette alla prova le definizioni identitarie di genere, di sesso, precise, maschio, femmina, immaginando per se stessa dei personaggi che sono spesso a metà tra i generi e appunto la scelta di Giuseppe è molto fortunata in questo caso perché il Giuseppe biblico ci viene raccontato come un ragazzo che però ha molti aspetti femminili. I commentatori del testo biblico dicono che si trucca, si trucca gli occhi, che ha molta cura per i suoi vestiti, che si pettina e si unge i capelli. Quindi Else, una giovane donna, sceglie di immedesimarsi in un personaggio che è un uomo con un grande aspetto femminio. Quindi in qualche modo ricompone quella unità, no? Quell'essere umano che è maschio e femmina, Dio li creò, come ci dice il testo biblico, o come Anna Arendt scrive, li creò maschio e femmina e in qualche modo ricompone l'unità originaria. Quindi un essere che è maschio e femmina, che è il suo essere poetante. L'altra figura che si vede in questa sua prima riga di autobiografia, quando dice diventai Robinson, è ancora una volta un uomo, un esploratore, quindi un personaggio che va all'esplorazione di una terra sconosciuta, visti cinque anni in terra d'Oriente, si immagina, e fino agli undici anni andai a scuola. Questo è un dato in realtà reale della vita di Else, perché sappiamo che è una bambina da un lato, tutto sommato serena, felice, che appartiene a una famiglia tedesca, borghese, agiata, di ebrei in qualche modo già emancipati, appartenenti anche al tessuto sociale della Germania di quegli anni, e che però subisce un trauma in realtà legato all'antisemitismo durante i primi anni di scuola. Qualcuno la chiama iude, ebrea, e le grida iep iep iep, che è quello che nel Medioevo, in seguito appunto nei paesini tedeschi, si gridava agli ebrei per farli ballare forzatamente nelle feste di paese, quindi una forma di umiliazione che le viene inflitta per il suo essere ebrea, senza che lei realmente nemmeno comprenda cosa ciò significhi, legato anche o accompagnato a una strana malattia, una sorta di fuoco di Sant'Antonio, delle eruzioni cutanee, che però le provocano anche una sorta di malattia nervosa, un ballo di San Vito, un bisogno di muoversi, il requieto che magari invece è solo quello di una normale bambina un po' vivace, ma che appunto la Germania degli ultimi anni dell'Ottocento non ha ancora gli strumenti pedagogici per comprendere, contenere se necessario, sicuramente per accettare e accogliere. Quindi Elsie appunto lascia la scuola dopo la fine di quelle che noi chiameremo le elementari e viene educata a casa dai genitori. I genitori sono Aaron Schuller, che è un agente di cambio poi divenuto banchiere, quindi una persona molto concreta, che però per tutta la vita si diletta anche in maniera amatoriale di architettura, di costruzioni, ama molto progettare e creare cose, crea piccole scenografie per spettacoli e travestimenti che Elsie mette in scena insieme ai cinque fratelli per la madre. Elsie addirittura nei suoi diari scrive che il padre ha costruito una casa con una meravigliosa torre per tutto il paese. Nuovo, realtà è fondamentale. Si può vedere, a me, se sia dato autobiografia, la figura di Elsie è che non importa. La madre di Elsie, Elisabeth, è invece Jeannette Kissing, una poetessa di lontane origini francesi, una poetessa lei stessa, appunto scrittrice di versi e grandissima lettrice dei migliori poeti tedeschi di Hein e di Goethe. La madre è anche con lei la quale la educa alla poesia, quindi cura la sua educazione letteraria. Elsie racconta nei suoi diari come la madre è con lei la quale insieme alla bambinaia le insegna a scrivere in età precoce. Lei scrive a quattro anni imparai a scrivere e a cinque anni composi le mie migliori poesie. Ancora una volta vedete questo immaginario di questo fanciullo poeta, quindi una poeticità tipica dell'infanzia non mediata da alcun sapere, da alcuna cultura. E infatti prima ancora di saper veramente maneggiare le lettere, le sillabe, le rime, Elsie sostiene di aver imparato a scrivere poesie usando dei bottoni. In un racconto molto bello che fa nella Terra degli Ebrei, appunto nel suo diario, racconta che la madre inventa per lei questo gioco prendendo i bottoni dalle fabbriche della città. Ci sono evidentemente vicino a Elberfeld fabbriche che producono bottoni e un giorno lei è così disperata che si vuole suicidare senza sapere esattamente cosa ciò significhi o comporti, ma sale su questa torre costruita dal padre e sta per buttarsi di sotto quando vede le fabbriche dei dintorni e sente nelle tasche i bottoni che la madre ha messo dentro le sue tasche perché lei possa con questi scrivere poesie. Quindi cosa fa? Allinea bottoni di grandezze, dimensioni, colori simili o diversi e le amministra come fossero sillabe o rime. Quindi gioca con la poesia prima ancora di essere in grado veramente di scriverla, ma ne capisce l'andamento quantitativo, se vogliamo, le misure. Quindi c'è un approccio che potremmo definire anche molto interessante da un punto di vista proprio pedagogico, che però nei suoi racconti non ha nulla di scientifico, è pura esperienza, pura espressione. Il padre, appunto Aaron Schuller, è sicuramente per Elsa il primo compagno di giochi, è una figura che lei racconta come il Till Eulenspiegel, un elfo della mitologia germanica, allegro, gradasso, cacciarone, sempre sano, sempre ridente, e Elsa scrive all'amato amico pittore Franz Mark, il Cavaliere Azzurro, uno dei suoi amori più importanti, in una lettera descriverà il padre e lo racconterà così. Il Till Eulenspiegel degli ebrei selvaggi, era mio padre, e non si era mai seduto in lamento sui fiumi di Babilonia, non aveva mai strisciato curvo per le tristi piogge del ghetto, tutto in lui era chiaro ed effervescente. Quindi vediamo come Elsa, in maniera più o meno dichiarata, sfata anche la figura, il mito dell'ebreo, della diaspora dell'ebreo curvo che striscia per le strade piovose, tristi del ghetto, il suo padre è una figura ben integrata con la realtà tedesca, appunto tanto da incarnare addirittura una delle figure mitologiche appunto del folclore germanico, dell'epos germanico, ed è una figura vigorosa, vitale, piena di forze. Oltre ad essere un compagno di giochi, il padre Aaron costituisce per Elsa anche un archetipo del maschile che poi lei per tutta la vita andrà a ricercare in tutti gli uomini che amerà e che la ameranno, che sono molti, cercherà sempre di ricostruire quella dinamica per cui un amante deve essere anche un compagno di giochi, deve essere un personaggio. Quindi così come ho detto che appunto Elsa inventa per se stessa dei personaggi, si traveste da principe di Tebe, da Tino di Baghdad, che è una principessa appunto araba, Baghdad, Elsa immagina che un indovina le abbia detto che ha giaciuto in un sarcofago, che è stata una mummia, c'è sempre questo immaginario appunto orientale di fantasia molto ricco, così richiede anche a tutti gli uomini della sua vita di partecipare, quindi darà loro nomi come il vescovo, il principe, la tigre Giselher chiamerà Gottfried Ben, uno dei più importanti poeti dell'espressionismo e medico a lei legato da un vincolo amoroso importante, a Gottfried Ben lei dedicherà anche una poesia nella quale dirà io voglio giocare con te, patria non ho, io voglio giocare con te al principe e al re. Quindi vedete come in pochissime parole si esprime proprio questo bisogno di sopperire a una mancanza di stabilità di casa, di patria con la possibilità invece di inventarsi un mondo che è continuamente trasfigurato, continuamente di fantasia e in cui però le persone che le sono accanto devono partecipare ai suoi giochi, cioè devono rendersi loro stessi personaggi. Quindi Karl Krauss, il cinico, critico, castigatore di tutti i vizi della Vienna dei primi anni del Novecento, diventa il vescovo, il principe e Elsa spesso immagina questi incontri tra lei a Berlino e lui a Vienna in cui lei gli offre degli struzzi, dei cammelli, dei cavalli, stalloni che ha cacciato a Bagdad e in cambio lui le darà l'anello di Giuseppe. Insomma ci sono tutti questi racconti pieni di oggetti, di cose belle e mitologiche. C'è anche un'immagine di un dio fanciullo, sempre riconducibile a questa prima figura del padre, a questo elfo, che in qualche modo le genera nell'animo anche la ricerca di un dio che non è un dio che punisce, non è un dio triste, è un dio di vita, vicoroso, quasi panteistico in qualche modo che racchiude in sé tanti aspetti, ma appunto sicuramente un dio fanciullo che torna spesso nelle sue opere. Insomma diciamo che passa un'infanzia felice, serena e agiata, sicuramente messa alla prova da questa fantasia fervida, da questa immaginazione veramente forte. La famiglia è, come dicevo, di ebrei tedeschi assimilati da un paio di generazioni, però ancora forti nella propria identità e fieri del proprio ebraismo. frequentano la sinagoga per le feste più importanti, Else parla della Pasqua e del Fersonunstag, il giorno della riconciliazione, come lei lo chiama, che sarebbe il giorno di Kippur, il giorno dell'espiazione, il digiuno. Else non impara mai l'ebraico e nemmeno parla lo yiddish, che è la lingua ebraico tedesca degli ebrei del centro ed est Europa. Quindi scrive rigorosamente in tedesco, in un meraviglioso tedesco, però quando decenni dopo, al suo arrivo in terra d'Israele, le verrà proposto di far tradurre in ebraico le sue ballate ebraiche, le poesie che lei ha raccolto sotto questo titolo, lei risponderà che i suoi versi sono da sempre scritti nella lingua della Bibbia. Quindi pur non conoscendo la lingua ebraica, lei immagina di parlare comunque nella lingua della Bibbia. Sicuramente la legge con attenzione, i racconti del Libro della Genesi, appunto ho già parlato della sua fascinazione per la figura di Giuseppe, ma anche di Giacobbe e di Esau, anche delle matriarche, sicuramente legge i salmi, è ispirata dalle grandi figure femminili, quindi Ruth, Esther, il re Davide appunto come salmista, lei lo sente quasi come un suo predecessore, un suo antenato che scrive versi di natura biblica e tutti gli amori di identità strana, quindi non rigorosamente un amore eterosessuale tra un uomo e una donna, ma qualcosa di diverso, l'amore di Davide per Ionatan e viceversa, il rapporto intricato tra il re Saul e Davide, il profeta Samuele, insomma tutti i libri dei profeti sono sicuramente materia che popolerà la sua poesia. Perde la madre prima e il padre poi in età abbastanza giovane, nel 1890 sposa il medico ebreo, anch'esso berlinese, Jonathan Bertold Lasker, di cui poi conserverà il nome per tutta la vita, fratello del noto scacchista di quegli anni e con lui si trasferisce a Berlino. Il matrimonio dura pochissimo, dura meno di due anni, fallisce senza aver avuto figli e però questi due anni di matrimonio le consentono di fare esperienza di una vita borghese, agiata, che non avrà poi mai più. Sono questi anche gli anni in cui sperimenta maggiormente con la pittura. Else, oltre ad essere appunto poetessa, scrittrice di drammi, è anche una meravigliosa illustratrice delle proprie poesie, disegna, raffigura i personaggi da lei inventati, quindi grazie a questo abbiamo immagini meravigliose proprio dei suoi personaggi come lei li ha pensati, quindi Yusuf, eccetera, Acquerelli, Tempere, eccetera. Questi sono gli anni in cui ha un suo studio, grazie al marito, nel quale può dipingere. Il marito però non sopporta questa sua stravaganza, dice che Else lo mette in imbarazzo con i suoi amici, che è troppo bizzarra, troppo egocentrica e parimenti lei non sopporta la vita borghese, le relazioni sociali molto calibrate che il marito vorrebbe imporle e quindi appunto il matrimonio finisce molto presto e da lì inizia per Else un'esistenza da randagia letterata da caffè, civilla, vagante, come lei si definirà, che poi condurrà per tutto il resto della sua vita. Da un lato è una vita di povertà, di miseria reale, di non aver da mangiare, dall'altro è una vita di grandissima ricchezza allietata dai personaggi più importanti della cultura e dell'arte tedesca e austriaca di quegli anni. Pensiamo appunto al già nominato critico Karl Krauss, allo scrittore Alfred Döblin, a Franz Werfel, a Tracl e i compositori, musicisti Arnold Schoenberg, Anton Webern, i pittori dell'espressionismo, Emile Nolde, Oscar Kokoschka, Georg Gross e l'amatissimo appunto Cavaliere Azzurro, il blaue writer Franz Marc, che però cadrà davanti a Verdun durante la Prima Guerra Mondiale, in marzo del 1916, così come molti altri amici che Else perderà o a causa appunto della Prima Guerra Mondiale o della tremenda epidemia di febbre spagnola ad essa seguita. Quindi da un lato relazioni bellissime e forti, dall'altro una quantità enorme di lutti. Else perde anche il fratello prediletto, il fratello Paul, che muore in giovane età e un altro lutto fondamentale, forse il peggiore della sua vita, è quello per la morte del figlio Paul. Nel 1899 Else ha il suo unico figlio, appunto Paul, come il fratello, il cui padre Else non rivelerà mai chi sia, quindi non sappiamo, ammesso che lei lo sapesse, non sappiamo chi è il padre di Paul e Paul è un ragazzo estroso, un giovane pittore di talento, un disegnatore appunto che eredita dalla madre soprattutto il talento per l'arte visiva, ammalato di tubercolosi. Else lo segue per anni di sanatorio in sanatorio, trascorre con lui e per lui numerosi periodi in Svizzera negli anni appunto intorno alla Prima Guerra Mondiale, subito dopo, però nel 1927 a 28 anni appunto purtroppo Paul muore di tubercolosi e a lui Else dedica una delle poesie più belle e più strogenti a mio figlio. Sempre per me morrai figlio nell'anno che volge. Una poesia meravigliosa. Nel 1903 sposa Georg Levine, che da lei viene immediatamente soprannominato Herbert Walden, quindi cambia il suo nome da fortemente ebraico a un nome invece molto tedesco e appunto a Herbert Walden Else dedica la raccolta di frammenti e di lettere raccolte nel mio cuore pubblicato in Italia da Giunti, che è una cronaca della vita nei caffè di Berlino ed è anche una raccolta di lettere che Else scrive, non sappiamo se poi veramente gliele manda anche a Herbert Walden durante un suo viaggio in Scandinavia insieme a un amico. Quindi Else, lasciata a Berlino dal marito in viaggio verso la Svezia con un amico, gli scrive continuamente delle lettere belle, buffe, estrugenti, romantiche, poetiche che vengono poi raccolte appunto nel mio cuore. Walden è un compositore, un redattore di varie riviste, tra cui Der Sturm, a cui Else contribuisce anche con testi e disegni, fino al 1910, anno di chiusura della rivista e anche di fine della loro relazione. Abbiamo già parlato di questo continuo desiderare di Else di trasfigurare la realtà, di vivere dei prodigi per poter sopravvivere al quotidiano. Scrive, ovunque io cerco una terra che possa essermi patria. Se mai un giorno la trovai nei tuoi occhi, non potei farvi sosta. Nella notte della mia più profonda pena io mi incoronai principe di Tebe. E qui vediamo appunto questa dichiarazione proprio di poetica, di questa necessità di inventarsi continuamente una realtà diversa per sopravvivere. Gottfried Ben è uno dei principali ammiratori e stimatori della sua poesia. La definisce il cigno nero di Israele e il più impervio fenomeno lirico che la Germania abbia conosciuto e lei in cambio lo chiama la tigre Giselher. E appunto la relazione con Gottfried Ben è forse una delle più passionali delle molte che costellano la sua la sua vita, i suoi molti amori. Alla fine, diciamo, di tutto questo periodo berlinese, nel novembre del 1932, Else vince grazie a Heinrich Mann, fratello di Thomas Mann, il premio, prestigioso premio per la letteratura tedesca Heinrich von Kleist, un premio di mille marchi che Else, nonostante sia lei stessa in situazioni economiche disastrose, devolve ad altri artisti più bisognosi di lei. E appunto nonostante questo riconoscimento dell'Accademia Prussiana delle Arti, le sue opere vengono bollate dalla stampa nazionalsocialista come arte non tedesca e le sue letture sono boicottate e di lì a poco anche i suoi libri vengono arsi a Bebelplatz, così come i suoi disegni dichiarati arte degenerata nel 1938, nell'aprile del 1933 Else decide che è il momento di rifugiarsi in Svizzera, quindi torna in Svizzera dopo il periodo trascorso per i sanatori del figlio Paul, questa volta è lei ad essere in condizioni di salute piuttosto precarie e economiche ancora peggiori. Non ha il permesso di soggiorno perché non ha un lavoro, non può lavorare perché non ha un permesso di soggiorno, situazioni molto simili a quelle che conosciamo dai migranti oggi, quindi nulla cambia per chi deve scegliere l'esilio per sopravvivere. In più la situazione è aggravata dal fatto che la lega degli scrittori di lingua tedesca in Svizzera conia un termine, Asphalt Schriftsteller, scrittori d'asfalto, con il quale cerca di boicottare appunto tutti i numerosi profughi ebrei ma anche dissidenti politici, tutte le persone di lingua tedesca che lasciano la Germania e l'Austria in quegli anni cercano rifiugio in Svizzera. Questa denominazione di scrittori dell'asfalto vuole dire che non sono scrittori svizzeri veri, cioè non sono legati al suolo, alle montagne, alla natura della Svizzera, sono scrittori urbani, quindi tipicamente ebrei in quanto non radicati nella terra, nella campagna, ma che vivono solo nella città, questo è un tipico stereotipo che oppone ebrei e non ebrei e appunto gli scrittori svizzeri temono sostanzialmente che questi scrittori di lingua tedesca portino via loro il lavoro, vedete appunto come mai nulla cambia e in ogni modo cercano di sorvegliarli, boicottarli e non farli lavorare. In particolare Else che in queste circostanze vaga tra Zurigo, Berna, Ascona, si rifugia per un periodo al meraviglioso Monteverità, quella comune di, potremmo chiamarli oggi hippie, ma sono intellettuali, pensatori, rivoluzionari, tra cui il grande Steiner. In quegli anni immaginano una vita di comunità completamente diversa. Nel dicembre del 1936 in questo contesto va in scena alla Schauspielhaus di Zurigo la prima dell'altro dramma di Else, dei tre che non ho citato all'inizio, cioè Arthur Aronimus e i suoi padri, che poi diventa anche un romanzo, ma inizialmente è un testo teatrale, che inizia come una favola di Natale in cui un padre racconta i suoi 23 figli quando dietro le finestre delle case in Westfalia si accendevano le luci sugli alberi di Natale. Quindi inizia con un'immagine di idilio e di pacifica convivenza tra ebrei e vicini tedeschi cristiani, ma che finisce molto presto con un orribile pogrom avvenuto durante la giovinezza del narrante, quindi tre o quattro generazioni prima di Else, e che dice sangue innocente versato dagli ebrei elevò il suo cupolamento oltre i confini del paese natio, oltre il Reno, e risuonò fino ai confini del mondo. Dai rami adorni degli alti abeti nella sala del municipio tendevano a modi dolciumi bimbetti ebrei. Per questa ragione Arthur Aronimus viene sospeso dopo la prima replica dalla censura svizzera, che teme disordini a causa delle violente scene di pogrom contenute nel dramma e non vuole infastidire il vecino tedesco con denunce troppo esplicite dell'antisemitismo risorgente. Quindi per stare tranquilli tolgono dalle scene Arthur Aronimus e Else perde anche l'unica possibilità di lavoro. Da qui Else nel 1934 compie il primo viaggio finalmente verso la terra degli ebrei, verso la Palestina, nell'aprile del 1934, quindi un anno dopo la fuga dalla Germania verso la Svizzera. Grazie alle sovvenzioni di una sua ammiratrice greca in Egitto, ottiene un passaggio nave e da Alessandria, quindi si imbarca da Trieste e attraverso Alessandria arriva in Palestina. Sbarca al porto di Haifa o di Jaffa e arriva a Gerusalemme. Il primo impatto con la terra promessa è molto difficile perché è tutto molto diverso da come se l'era immaginato. scrive a un amico ebreo è troppo difficile per me vivere tra questo popolo, anche il re David se ne sarebbe andato. E infatti Else dopo poco se ne va, torna a Zurigo dove nel 1937 pubblica la terra degli ebrei, appunto questo suo raccolta di lettere, pagine di diario e racconti che mescola la sua infanzia al primo impatto con la Palestina, pubblicato in Italia da Giuntina, un libro forse quello che più vi consiglio di tutti i libri di Else. E però appunto nell'estate del 37 torna nuovamente in Palestina. A questo punto il viaggio è più breve, più faticoso e parallelamente l'ostilità nei suoi confronti in Europa cresce, appunto le sue opere sono bollate come arte degenerata, viene privata della cittadinanza tedesca, compie un terzo viaggio nel 1939 che sarà poi quello definitivo. Cioè a quel punto è costretta a rimanere nella Palestina del mandato perché non ha più dove andare a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, stringe amicizia con i grandi intellettuali tedeschi che in quegli anni, ebrei soprattutto, sono arrivati lì, Martin Buber, Hugo Bergman, Gershom Shaolem, Shalom Ben-Khorin. Martin Buber e Hugo Bergman sono addirittura suoi vicini di casa a Rechavia, nel quartiere appunto degli intellettuali ebrei tedeschi a Gerusalemme. E in questo ambito, sempre da un lato, tormentata dalla povertà e in qualche modo anche dalla pazzia, incontra uno di quelli che saranno poi i giovani poeti della prossima generazione, che io invece ho conosciuto da anziano, Nathan Sach, un poeta emigrato della Germania, e che la conosce, lui è un ragazzino giovanissimo, lei è un'anziana signora, hanno quasi una storia d'amore. Quello che Sach mi ha raccontato dei loro incontri, delle loro passeggiate per Rechavia, sembrava davvero un idillio amoroso, al quale è ispirato anche un dramma, un testo teatrale di Motti Elon, che si chiama Elze, messo in scena dalla Bima alcuni anni fa, che racconta appunto la sua vita in Palestina. C'è un film di Amos Ghiitai, che si chiama Berlin-Gerusalemme, del 1989, che racconta tutta la vicenda di Gerusalemme, da Berlino a Gerusalemme, di Elze, paragonandola alle vicende di una pioniera mania, una pioniera russa, quindi facendo vedere anche il contrasto tra la realtà tutta cittadina, urbana di Elze, e invece la vita all'aria aperta dei primi immigrati, socialisti, fondatori dei kibbutzim. È questo un movimento al quale Elze non appartiene mai, il suo individualismo è troppo forte. L'ultima sua struggente raccolta di poesie, Main Blau Esclavir, il mio pianoforte azzurro, dal nome appunto della poesia principale di questa raccolta, è dedicata a tutti gli amici sparsi dagli esili in giro per il mondo e in qualche modo è anche un po' una sua dichiarazione di essere pronta a morire, perché dice così possiedo a casa un pianoforte azzurro, eppur non conosco le note. Da quando oscuro si fece il mondo, sta in fondo al buio della cantina. Suonan le stelle a quattro mani, la luna canta sopra la barca, ballano i topi allo strimpellio. Ormai spezzata è la tastiera, ed io lamento il morto azzurro. Aprite, angeli, a me, il pane amaro mangiai, a me che vivo, la porta del cielo, anche contro il divieto. E chiede così in qualche modo di essere ammessa, insomma, nel mondo dei morti, perché tutto è finito quello per cui viveva. Alle mie ciglia pende una stella, c'è tanta luce, come posso dormire. Io voglio giocare con te, patria non ho. Io voglio giocare con te, al principe e al re.